E tornando alla questione invece dei confini e delle frontiere dei muri, ma io chiedo a chiunque è qui presente in questo studio o a chiunque siede a casa, ma voi non avete la recinzione che protegge la vostra proprietà, la porta all'ingresso di casa eccetera? Non è una cosa strana, è una cosa assolutamente normale che anche uno Stato determini il proprio confine e lo difenda. Chi dice il contrario, francamente fa il politicamente corretto più politicamente scorretto che ci possa essere.